Sì, ho già montato che lavora? Certo. E che marcha è? E che viso? Eh vabbè ragazzi, che trova? Lo stiamo giocando un po' No! Allora, vi ringrazio tutti per essere venuti. Questo già l'abbiamo sentito. Grazie mille. È stata un'occasione per schettare tutti insieme. Per questo dico ogni volta il mio compleanno, ma stavolta è veramente il mio compleanno. Quindi grazie mille a tutti anche... Eeeh! Mi chiesto a Ravola? Grazie! Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.